Salve a tutti. Oggi sono qui per darvi le nuove anticipazioni riguardanti gli episodi di giovedì 12 luglio e parte di venerdì 13 luglio. Queste puntate saranno ricche di colpi di scena che non vorrete assolutamente perdervi, quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati fino alla fine. La storia inizia con Chetting che si allontana, lasciando Ilmaz in attesa. Quest'ultimo, desideroso di incontrare Zulia, decide di chiamare Gulten e le chiede gentilmente di avvertire Zulia che l'aspetta a casa sua insieme ad Adnan. Nel frattempo, Sermin si reca da Beis e con gioia condivide alcuni momenti divertenti accaduti al matrimonio di Sebaten. Sermin, inoltre, è soddisfatta del fatto di aver gettato vernice addosso a Julide. Proprio in quel momento, Beis interviene e domanda chi potrebbe aver informato Ankar sul fatto che Demir ha portato l'amante di suo padre all'evento. Inaspettatamente, Sermin ammette di essere stata lei a farlo, confessando anche di provare talvolta paura di se stessa. Beis, quindi, condivide con Sermin il suo problema riguardante il ritorno di un presunto nipote di Fekeli, che afferma di aver vissuto in Germania nonostante l'auto che guida abbia una targa di Istanbul. Sermin, colta da una rivelazione, rivela che la macchina coinvolta nell'incidente del giorno precedente è proprio quella del presunto nipote. Comprende quindi perché lui le abbia parlato tanto di Fekeli e Kukurova, ma non sapeva che fosse il nipote di Fekeli. Beis esprime i suoi sospetti sul fatto che il presunto nipote possa essere un impostore, considerando che Fekeli è un uomo ricco senza eredi. Intrigata dalla situazione, Sermin confida di aver ottenuto informazioni su Ilmaz e suggerisce che potrebbe essere vero che non sia il figlio di Musa, poiché quest'ultimo era molto basso mentre Ilmaz è alto di statura. Nel frattempo, Zulia incontra Ilmaz a casa sua, dove lui ha comprato una piccola macchinina per il loro bambino, che inizia subito a giocarci felice. Ilmaz accarezza amorevolmente il piccolo, dichiarando che presto saranno finalmente tutti insieme e potranno scrivere un nuovo destino per la loro famiglia. Zulia ascolta attentamente le parole di Ilmaz, che si confida dicendole di aver sempre sognato di vivere con lei e di costruire una famiglia insieme, e ora quei sogni stanno per avverarsi. Lui le promette che recupereranno ciò che è stato loro sottratto e che nessuno riuscirà a trovarli. Infine, con una voce carica di emozione, le chiede se ha paura. Zulia risponde che non ha paura di nulla quando è con lui. Ilmaz continua a parlare, rivelando che il nipote di Fecheli, che viveva in Germania, è tornato e che si sente sollevato di non aver lasciato Fecheli senza un'erede, poiché ora si sente più tranquillo. Nel frattempo, Gulten scorge Mugeigan arrivare in macchina e avvisa in immediatamente Ilmaz. Cerca di trattenere Mugeigan, ma questa, irritata, entra in casa. Ilmaz si avvicina a lei, mentre Zulia si nasconde insieme ad Adnan. Ilmaz spiega a Mugeigan di essere lì per prendere un album fotografico per appendere alcune foto come segno di riconciliazione. La abbraccia e le dice che è arrivato il momento di trovare una pace reciproca. Tuttavia, Mugeigan si libera dall'abbraccio e gli fa notare che non sopporta il fatto che lui creda solo a Zulia. Poi nota la macchinina e lui le spiega che è per Kerem. Mugeigan obietta, dicendo che il bambino è troppo piccolo per quel tipo di giocattolo. Successivamente, Mugeigan entra nella stanza in cui Zulia si era nascosta per prendere alcuni oggetti, ma Ilmaz riesce a portarla fuori dalla stanza. Tornati nel salotto, Mugeigan gli dice che quando si erano trasferiti lì, aveva fatto tanti sogni, ma lui si era posto contro di lei. Ora sembra che siano tornati insieme, ma si chiede quanto tempo durerà. Ilmaz le assicura che nulla potrà separarli. Allora Mugeigan gli chiede di giurare sul loro figlio. Ilmaz esita per un attimo, ma poi promette che sarà sempre al suo fianco. Tuttavia, si rifiuta di giurare sul figlio, affermando che nella vita non si può mai sapere cosa riserverà il futuro. Questa risposta non soddisfa Mugeigan, e a sua volta Ilmaz le chiede di giurare sul loro figlio, che se lo vedrà con Zulia, non lo lascerà. Anche lei esita, ma alla fine gli dice di andarsene. Nel frattempo, Demir porta Sevda nella casa che un tempo apparteneva a Naciai e le annuncia che quella casa è per lei, desiderando che viva vicino a lui. Sevda, preoccupata, risponde che se Ankar venisse a sapere di ciò, si scatenerebbe il caos. Demir la rassicura, dicendole che lei non è responsabile di ciò che accadrà. Nel frattempo, due donne interessate all'acquisto della casa notano la porta aperta e decidono di entrare. Ascoltano Demir dire a Sevda che sia sua madre che l'intera Kukurova dovranno accettare che lei possa abitare lì e arredare la casa a suo piacimento. Demir consegna a Sevda le chiavi della casa e la congratula con lei. Le due donne si presentano, dichiarando il loro interesse per la casa, ma Demir fa loro presente che ha acquistato la casa per sua madre, Sevda, e lei stessa mostra orgogliosamente le chiavi in mano. Successivamente, Demir telefona a Zulia e confessa di sentire la mancanza di lei e dei bambini, ma a causa della madre non può andare da loro. Chiede a Zulia di far parlare Adnan al telefono, ma proprio in quel momento Ankar entra e interrompe immediatamente la conversazione. Demir, arrabbiato, riferisce a Sevda che la madre gli impedisce di parlare con i figli. Sevda cerca di rassicurarlo, dicendogli che presto la rabbia di Ankar si placherà e lo invita a calmarsi. Nel frattempo, Ankar parla con Zulia e le fa notare che è ora il turno di Demir di sentire la mancanza dei figli. Poi riceve la visita delle due signore che hanno incontrato Demir e Sevda a casa di Naciai. Le donne gli rivelano che Demir ha affermato di aver acquistato quella casa per sua madre, Sevda, e chiedono spiegazioni sul comportamento di Demir. In un'altra parte della città, Fekeli, Fikret e Beis si trovano a cena in giardino. Fikret esprime il suo stupore nel ritrovarsi lì dopo tanto tempo. Beis, curiosa, inizia a fargli una serie di domande, e Fikret racconta di avere un'agenzia di viaggi in Germania insieme a un socio. In quel momento, Ilmaz fa il suo ingresso e suggerisce a Fikret di abbandonare l'attività attuale e di unirsi alla loro società, invitandolo a stabilirsi con loro. Fekeli concorda con Ilmaz, affermando che quella casa è anche la sua. Successivamente, Ilmaz porta Fikret a vedere i cavalli e condivide con lui il dolore e le perdite che Fekeli ha subito, inclusa la tragica morte della moglie e dei figli in un incidente automobilistico. Ilmaz spiega che si sono conosciuti in prigione, dove ha protetto Fekeli come un figlio e gli ha donato una nuova vita. Fikret risponde dicendo che anche lui ha dato a Ilmaz una nuova opportunità di vita e che Fekeli è fiero di lui. Ilmaz afferma che Fekeli ha ancora ferite aperte che solo lui, essendo suo parente di sangue, può aiutare a guarire. Gli chiede di rimanere con loro e di non lasciarlo solo. Fikret comprende il motivo per cui suo zio lo ama così tanto. Nel frattempo, Beys si rivolge a Fekeli e gli chiede se Fikret somiglia a suo padre. Fekeli risponde che Fikret ha un aspetto che ricorda i suoi nonni, persone alte e forti. Beys, con gentilezza, gli chiede se, essendo un uomo ricco e rispettato, sia disposto a fidarsi di Fikret e lo rassicura che lui è suo nipote. Fekeli si interroga sul significato delle sue parole. Beys solleva il fatto che Fikret sia riapparso solo dopo 30 anni anziché presentarsi immediatamente quando lui era in prigione, manifestando il suo sospetto sul motivo per cui un nipote non si sia fatto avanti sin da subito, ma abbia invece iniziato a fare domande in giro. Chiede a Fekeli di prendere in considerazione tale sospetto e di indagare ulteriormente su di lui. Fekeli risponde che tende sempre a pensare positivamente per ottenere risultati positivi e consiglia a Beys di fare lo stesso. Beys, falsamente, gli assicura che seguirà il suo consiglio. Le dinamiche familiari si fanno sempre più complesse, con sospetti e rivelazioni che mettono in discussione le relazioni tra i personaggi. Continuate a seguirci per scoprire come questi sviluppi influenzeranno il destino dei protagonisti e quali segreti verranno alla luce. Non perdete le prossime anticipazioni. Ciao!